Prima fila, Magazine. Al Teatro Deuno una nuova produzione di Teatro Aperto, si chiama L'Aperitivo dei Folli, il testo di Fernando Arrabal, la regia è di Piero Ferrarini. Piero, parlaci di questo spettacolo. Questo testo è stato scritto da Fernando Arrabal sul finire degli anni 70, la data esatta non l'abbiamo purtroppo. È un testo inconsueto nella drammaturgia di un autore considerato davvero di avanguardia, specialmente all'epoca, quale è Fernando Arrabal. Ricordiamo che Fernando Arrabal è stato più volte in lizza per il Nobel, per la letteratura, è un autore centrale, importantissimo del Novecento. Pochi sanno che è anche stato un appassionato giocatore di scacchi. Ha scritto anche diversi libri tecnici proprio sul gioco degli scacchi. Ha riunito i suoi due interessi, le sue due passioni per il teatro e per gli scacchi in questo testo. L'Aperitivo dei Folli è appunto il gioco degli scacchi. Che cosa fa Arrabal? Qual è l'operazione che porta avanti Arrabal in questo suo testo? Recupera dei materiali da catto usurati del vecchio teatro di Boulevard, i cascami di Feidò e quanti hanno seguito Feidò nel tardo ottocento, quindi con quelle situazioni stereotipe tipiche, l'amante nell'armadio, il tradimento, tutto questo apparato, per rivisitarle in una chiave completamente diversa, una chiave surrealista. Quindi lo spettacolo ha un inizio, diciamo così, tra virgolette tradizionale per poi avere, indirizzarsi, procedere verso un epilogo totalmente surrealista. Quindi due, anzi tre, potremmo dire, passioni di Arrabal. Quella per gli scacchi, quella per la vecchia tradizione teatrale, della quale comunque Arrabal, pur essendo un autore contemporaneo, è stato un attento lettore e lo dimostra in questo testo. Dimostra chiaramente di conoscere perfettamente i meccanismi di questo teatro e naturalmente anche per il surrealismo. Arrabal è stato amico, intimo, amico degli ultimi surrealisti, diciamo della seconda generazione dei surrealisti. Topor, Matta e quanti altri, con i quali formò poi anche il teatro panico all'inizio degli anni Sessanta. Diciamo che il surrealismo è stata un'etapa importante nella poetica, nel teatro e anche nel cinema, perché Arrabal è anche un autore cinematografico, è stato anche un regista cinematografico, molto importante. Questo testo è bellissimo, è un testo molto divertente, molto scorrevole, dove il gioco degli scacchi fa da sottofondo, sottende questo movimento scacchistico, si potrebbe dire, dei personaggi. In buona sostanza Arrabal prende e muove come pedine degli scacchi, i personaggi sul palcoscenico li fa muovere al regista. La storia, il plot della storia è diciamo abbastanza semplice, questa campionessa di scacchi, in attesa di vincere il campionato mondiale di scacchi, si ritrova un americano spocchiosissimo, che è il campione sfidante e da qui nasce poi tutta una serie di equivoci. Naturalmente anche l'equivoco è uno dei temi fondamentali del teatro di Boulevard, che porteranno a questo finale surreale che naturalmente non svelerò. La compagnia che lo mette in scena è quella del Teatro Aperto, una compagnia storica del Teatro Aperto, con l'aggiunta per l'occasione di Mario Suchic, che è un attore istriano, vive da molti anni a Bologna, molto bravo, che siamo contenti e orgogliosi di avere nella nostra compagnia oggi. L'Aperitivo dei Fogli, allora appuntamento al Teatro Deon, grazie regista Piero Ferrarini. Grazie a tutti.